Nessuno dei 3.473 detenuti nelle carceri della Toscana è positivo al coronavirus. Il dato è emerso nel corso dell'incontro tra l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il capo di gabinetto del presidente Rossi, Ledo Gori, Gianfranco De Gesu, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Toscana Umbria, e Angela Venezia, direttore dell'ufficio detenuti di trattamento, per discutere della questione Covid-19 in relazione al sistema carcerario. Proprio per impedire la diffusione del contagio in ambito carcerario, al termine dell'incontro è stata poi presa la decisione di sottoporre a testa sierologico tutto il corpo di polizia penitenziaria e il personale amministrativo in servizio negli istituti di pena Toscani. Si tratta nel complesso di 2.500 persone. Stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione penitenziaria da quando l'emergenza coronavirus è cominciata, ha detto l'assessore Saccardi, proprio per cercare di puntare sulla prevenzione piuttosto che sulla cura. È stata fatta una valutazione anche in ordine alle linee guida emerse dalla task force sul carcere e anche in relazione ai numeri attuali è stata riconfermata la validità e la sufficienza allo stato delle stesse linee guida. Il gruppo di lavoro ha concordato di tenersi costantemente aggiornato per adottare ogni misura che si rendesse eventualmente necessaria.